Ciao amici di Sicily Wonders, sono Simone Parolaone, gundaturistica di Palermo e in questo momento mi trovo davanti al simbolo della mia città, ovvero la cattedrale. L'edificio che più di tutti racchiude la storia millenaria non solo della città di Palermo, bensì della Sicilia intera, visto che racchiude in sé tutti gli stili e le culture che hanno caratterizzato la storia della Sicilia. All'inizio della sua storia quest'edificio era una moschea durante l'epoca della dominazione islamica, la famosa moschea Ghani, una delle più grandi del Mediterraneo, nella preghiera del Venerdì, che poteva contenere fino a 7.000 fedeli. Con la conquista e l'arrivo di Normandio, secondo me, dell'anno lì, l'edificio da moschea venne trasformato in cattedrale cristiana ed è per opera di qualtiero famiglio, ovvero l'arcipesco di Palermo, che a partire dagli anni 80 del XII secolo venne trasformato in un impianto della moschea nell'edificio che vediamo oggi alle mie spalle. Questa spendita cattedrale in realtà è l'unione di diversi stili, poiché ogni vescovo, ogni sovrano che ha regnato in Sicilia comunque ha voluto lasciare qualcosa. Infatti si scorre dalle mie spalle questa spendita cupola tardo-barocca, ci sono dei riferimenti bioplastici, tardo-godici, insomma, una sorta di libro di storia dell'arte. Vi invito a visitarla insieme a tutti gli altri tesori della città di Palermo. Un saluto, un abbraccio, seguite il canale e iscrivetevi. Alla prossima!